Non la medicina come disciplina, ma nelle sue applicazioni a una società che ora come allora non può fare a meno dei medici. Noi siamo molto affezionati ai medici, vogliamo tanto bene. E quindi abbiamo di nuovo un intervento del professor Corrado De Vito, che chiamo qui da noi. Grazie Corrado. L'altra volta ci hai parlato di epidemie, di carestie, oggi ci parli di cose un pochino più belle. Di malattie. Da un medico che ci possiamo aspettare. Allora, la parola. Grazie. Allora, ci troviamo a Salerno nel XII secolo. A Salerno arrivano pazienti da tutta Europa e arrivano persone da tutta Europa per imparare l'arts medica. Perché a Salerno esiste quella che, ma è nata già prima dell'anno 1000, quella che è la più grande manifestazione intellettuale, culturale e scientifica di tutto il Medioevo. La scuola salernitana medica. La scuola medica salernitana, badate bene, la sua nascita è un po' leggendaria, perché si dice sia nata prima dell'anno 1000 grazie all'incontro di quattro personaggi, quattro maestri. Un arabo, un ebreo, un salernitano e un greco. Questa è la leggenda, chiaramente, ma la leggenda nasconde una verità fortissima. La scuola medica salernitana è nata dal sincretismo delle culture occidentale ed orientale. È nata perché vicino Salerno c'era una scuola medica già greca, già importante, Adelea, la città di Parmenide, dove già vi era una scuola greca medica di origine pitagorica. Pitagora era stato a Crotone, da lì, diciamo, la scuola medica poi si era spostata anche a Adelea. E a Salerno arriva un personaggio importantissimo che vedete raffigurato a sinistra, che è Costantino l'Africano. Costantino l'Africano arrivò nel undicesimo secolo a Salerno, era un personaggio importantissimo perché aveva viaggiato dall'Africa fino all'Oriente, era arrivato a Baghdad, probabilmente anche in India, poi era tornato. Una volta tornato voleva aprire una sua scuola in Africa, ma fu perseguitato, cacciato e arrivò a Salerno. Anche questo ci sono varie leggende, si dice che naufragò. In realtà arrivò a Salerno perché? Perché Salerno era una città importantissima del meridione, era il capoluogo del principato Longobardo prima, poi un feudo importantissimo del regno di Sicilia. Cosa c'era a Salerno? Intanto era un crocevia delle culture e poi c'era un importante monastero benedettino. La regola benedettina voleva l'assistenza dei malati, per cui arriva Costantino dall'Africa portando tutta la cultura dell'Oriente, viene in contatto con i benedettini, viene in contatto con Alfano I, abate dell'abbazia di Monte Cassino, che lo invita a convertirsi al cristianesimo, se lo porta nell'abbazia di Monte Cassino e lo invita a tradurre tutti quei testi arabi importantissimi per la medicina dell'epoca. Quindi Costantino trascorrerà un lungo periodo della sua vita nell'abbazia di Monte Cassino dove già l'abbate Alfano I ha tradotto dal greco alcuni testi medici, lui tradurrà i testi dall'arabo e pensate che lui dall'arabo tradurrà alcuni testi di Ippocrate e Galeno che erano stati persi in lingua greca, quindi li ritradurrà dall'arabo e li riporta in occidente. Questi testi poi diventeranno la base della cultura della scuola medica salernitana. Scuola medica salernitana che quindi si basa sulla, come ci ha detto prima benissimo la nostra Loretta Hildegarda, si basa sulla medicina ipocratica sui quattro elementi, i quattro elementi che costituiscono il nostro organismo che sono il flegma, il sangue, la bile nera e la bile gialla. Ma questi quattro elementi non sono altro che nel microcosmo dell'uomo la rappresentazione del macrocosmo, dei quattro elementi che, secondo la filosofia greca, costituivano tutta la natura, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. E allora quando c'è uno squilibrio tra questi elementi, arriva la malattia e arriva, diciamo, uno squilibrio verso quei quattro temperamenti che vengono raffigurati da questi quattro elementi. Se c'è un eccesso di flegma, si va verso il temperamento flemmatico. Se c'è un eccesso di sangue, si va verso il temperamento sanguigno. Noi ce li portiamo ancora dietro queste nozioni, perché la bile nera, la melascole, porta al temperamento melanconico, che poi era tanto caro ai romantici, la bile gialla, la colera, verso la collera, verso il comportamento collerico fegatoso. E allora quando c'è un'alterazione di questi quattro elementi, con cosa si interviene? Quali erano le cure che utilizzavano i medici della scuola di Salerno? I medici della scuola di Salerno utilizzavano i semplici, ovvero le erbe officinali. Le erbe officinali che coltivavano se vi trovate a passare per Salerno vi invito a visitare l'orto ex orto dei semplici, il giardino della Minerva, che è il primo orto botanico vero e proprio, perché lì uno dei maestri della scuola di Salerno creò proprio un giardino per la didattica, cioè per insegnare agli allievi quali piante utilizzare per la cura della medicina, perché nella scuola di Salerno era stata utilizzata una classificazione delle piante. Noi conosciamo la classificazione delle piante lineiana, ma l'inneo arrivò nel 1700. I salernitani classificavano le piante in base alle proprietà terapeutiche, ovvero se noi abbiamo un eccesso di uno dei nostri elementi che sono in realtà controllati da quattro qualità notariali, il caldo, il freddo, l'umido e il secco. Se abbiamo un eccesso, quindi uno squilibrio dei nostri elementi, dobbiamo curarli con l'opposto. I medici salernitani erano olistici e allopatici, olistici perché non credevano alla distinzione tra mente e corpo, curavano tutto insieme, e allopatici perché utilizzavano il principio del curare con i contrari, contraria, contraris curantur, il contrario si cura con il contrario, opposto poi a quella che è la filosofia dell'omeopatia, similia, similibus curantur, che tende a curare con il simile con il simile. Allora, se io ho un eccesso di caldo secco, devo curare con una pianta che sia fredda o umida. Allora, se voi andate a visitare il giardino della Minerva a Salerno, troverete che le piante sono suddivise in base a questa classificazione, in base a piante più calde, più secche, più fredde, più umide, e così trovate gli incroci, diciamo, di questi quattro elementi e delle quattro qualità naturali a formare questa classificazione, più vari livelli, abbiamo quattro livelli per cui il primo è il più blando, il quarto addirittura arriva ad uccidere. Ma chi erano i veri depositari delle conoscenze relative alle piante? Erano le donne, e se vedete la seconda figura a destra, ci mostra le medichesse. La scuola salernitana aveva al suo interno maestre di medicina donne, e accettava le donne come discenti. Questo succedeva nei cosiddetti secoli bui. Oggi ci viene da chiederci che cosa stiamo vivendo rispetto a quei secoli bui. In realtà ancora non è chiaro perché le donne, diciamo, avessero questa importanza nella scuola. Probabile appunto perché fossero a conoscenza dell'utilizzo delle erbe officinali meglio di altri perché venivano tramandate. Come si faceva diagnosi però? La diagnosi si faceva in base all'utilizzo di due sistemi. Uno lo vedete raffigurato sempre lì, delle persone, dei pazienti che vanno da Costantino l'Africano, cosa gli portano? Gli portano le urine. Allora, l'analisi delle urine e l'analisi del polso erano i due sistemi fondamentali di diagnosi. Badate bene, l'analisi delle urine, non c'erano analisi laboratoristiche, quindi i medici affinavano tutti e cinque i sensi, e a parte l'udito, per l'analisi delle urine li utilizzavano tutti. Pensate che erano arrivati a classificare venti tipi di torbidità delle urine, erano in grado di fare diagnosi soltanto guardando le urine all'interno di quei vasi tipici. Così l'analisi del polso. L'analisi del polso avevano suddiviso, diciamo, tante tipologie di polso che poi noi oggi ritroviamo nella nostra semiotica moderna. Parlavano di polso caprino, il polso caprino è il polso fibrillante, come quello della capretta che salta un po' qua e là così, in maniera scomposta, o il polso che chiamavano martellino, che è il nostro polso scoccante di Corrigan, che avviene, diciamo, è un segno dell'insufficienza ortica. Loro avevano classificato tutte le tipologie di polso, quindi erano in grado di fare una serie di diagnosi incredibile affidandosi soltanto alle loro capacità sensoriali, perché non avevano chiaramente risonanze magnetiche TAC o quant'altro. I medici della scuola salernitana erano famosi perché erano abili al letto del malato, tant'è che i loro manuali, scritti da donne importantissime come Trotula de Ruggero o da altre famiglie importanti come i Cofone o i Plateario, si chiamavano Practica. Quindi i medici salernitani erano medici pratici, erano medici che stavano al letto del malato, erano in grado di fare diagnosi e curare con le erbe officinali le malattie. Anche la chirurgia ebbe un grande sviluppo nella scuola salernitana, la chirurgia era un po' la sorella povera della medicina, la chirurgia la applicavano i barbieri prima della scuola medica di Salerno. In realtà con la scuola medica di Salerno si ha, diciamo, uno sviluppo della chirurgia e uno sviluppo di pratiche che ancora oggi riconosciamo, alcune posizioni, adesso non mi sto a dilungare su queste cose, però la chirurgia, diciamo, ha avuto un grandissimo sviluppo. Che cosa successe dopo? Successe che la scuola di Salerno ebbe il suo apogeo proprio nel XII secolo, fino, diciamo, all'inizio del XIV, dopo arrivarono nuove conoscenze, nuove conoscenze che arrivavano sempre dalla rabbia, arrivò il canone di Avicenna. Il canone di Avicenna, Avicenna è stato, è considerato probabilmente una delle più grandi menti che ha solcato le terre. Avicenna cominciò a parlare di un sistema diverso di diagnosi, cominciò a parlare di un sistema diverso di intendere la medicina, di un sistema diverso di cura, si cominciò a parlare di medicina sperimentale. E allora la scuola medica di Salerno cominciò piano piano a diminuire di importanza, anche perché si aprirono le nuove università, sia in Italia che oltre Italia, Bologna, Padova, per fare degli esempi. Dopodiché la scuola venne chiusa da Gioacchino Murà nel 1811. Che cosa ci lascia però la scuola medica di Salerno? Ci lascia la prima università, è stata la prima università. Loro non si chiamarono mai università, si chiamarono sempre scuola, ma gli fu riconosciuto come scuola la capacità di tramandare una conoscenza universale, una conoscenza che aveva raccolto e aveva unito le conoscenze del mondo orientale e le conoscenze del mondo occidentale e aveva dato alla donna il ruolo che si meritava in ambito culturale e in ambito sociale. Grazie.